25 aprile del 45, festa della liberazione, la resistenza e i suoi valori di libertà e democrazia costituiscono ancora oggi un punto di riferimento importante e vitale. Importante e vitale pensare che dei giovani che avevano meno di 20 anni erano nati e cresciuti durante il regime e avevano una visione della realtà segnata dalla propaganda, dalla mancanza di riferimenti, di riscontri, di alternative. Dopo l'8 settembre del 43, nello sfacelo generale, nel crollo di ogni riferimento, nella mancanza di istituzioni, se però leggere nel profondo della loro coscienza e scegliere la libertà, la giustizia e la democrazia, lottando per esse. La loro fu innanzitutto una scelta di coscienza, di coscienza civile. Più che gli aspetti militari e bellici della resistenza, bisogna mettere al centro proprio questo orizzonte etico e ideale comune che mise insieme intellettuali e contadini, uomini e donne, persone anziane e giovanissimi, militari esperti che conoscevano bene le tecniche di guerra e giovani che non avevano mai imbracciato un'arma. Ecco, tutti costoro seppero collaborare, pur provenendo da esperienze diverse e avendo orizzonti politici, partitici differenti, seppero collaborare per la dignità dell'uomo e la solidarietà contro ogni forma di totalitarismo, di conformismo forzato, illiberale e xenofobo che erano il modello del fascismo e del nazismo. Siamo a Bassano del Grappa, città medaglia d'oro per la resistenza e ci troviamo proprio nel viale dei martiri. A questi alberi, il 26 settembre del 44, vennero impiccati 31 giovani. Fu quello l'episodio più drammatico e del rastrellamento del Grappa, che si concluse con altri 170 impiccati, 600 giovani fucilati e 800 deportati in Germania, dei quali solo 200 fecero ritorno alla fine della guerra. Anche oggi deve essere un obiettivo comune il preservare la memoria dei caduti per la libertà, ricordando con imparzialità tutti gli eventi e le circostanze in cui si svolse la guerra di liberazione dal 43 al 45, ma soprattutto riaffermando il principio che la resistenza, pur con luci e ombre, è stata un fatto di straordinaria importanza, realizzando un'unità di sostanza negli obiettivi dell'antifascismo e della democrazia. Grazie a tutti.